Siamo in compagnia di Daniele Caldarulo, team manager della Nazionale Italiana Cuochi. Facciamo un resoconto di quella che è stata la serata? Resoconto tutto sommato molto positivo, anche perché comunque abbiamo lavorato su quelle che erano le problematiche che abbiamo riscontrato nelle precedenti sessioni di allenamento. L'ottavo allenamento significa comunque essere arrivati quasi al top della forma fisica, è proprio il caso di dirlo. Io sono molto ottimista perché comunque abbiamo proposto un menù molto ricercato, molto innovativo. Nell'innovazione c'è anche una base di tradizione perché comunque parliamo di una Nazionale Italiana Cuochi che comunque deve promuovere il patrimonio, in questo caso enogastronomico, del made in Italy. A questo noi comunque aggiungiamo tanta creatività ed è proprio la creatività che comunque suscita interesse in questo caso dei giudici che comunque ci valuteranno e ci giudicheranno in gara. Quindi sono molto ottimista per questo. E io in cucina ho visto veramente tanta voglia di fare, tanta concentrazione, i ragazzi addirittura sono andati anche avanti rispetto ai tempi. Sì, è molto importante rispettare la tempistica durante la fase della competizione, perché noi abbiamo a disposizione 5 ore e in quelle 5 ore dobbiamo preparare uno starter, una main course, un dessert per 110 persone. Tu riesci a trovare una perfezione solo dopo tanti, tanti allenamenti e noi ci siamo allenati abbastanza. Ti facciamo un grande in bocca al lupo e speriamo bene per la Nazionale Italiana Cuochi. Creepy. Grazie a te, io sono molto ottimista.